Abbiamo una vedova anziana e un vedovo sui 50. Io prendo il vedovo. Intanto per fare una cosa nuova. Non ho capito. Grazie papà, cassa moltaro. È il lavoro più bello del mondo. Ma è una bella tinta, no? 118. Io mi sono scopata 118 vedovi. Ma è una cifra enorme. E non ci potete fare un cazzo. Dovete pagare fino all'ultimo euro. La musica ucciderà... Gabriele Arcangelo era amato da tutti, generazione... Gabriele è morto. E quale sarebbe l'idea? Un grande omaggio a mio padre. Posso contare su di voi? Come si chiamano Maddalena quelli che ci hanno mandato quell'email? Taffo. Life versus death. Significa un sacco di soldi. Giovane vedovo, bello come il sole, in una valle di lacrime. Vado. Chiudi a chiave. Rutini. Viva la vita! Viva la vita!